Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. L'indiscrezione bomba arriva, da Gospia. Fonte più che autorevole per tutti gli addetti ai lavori nonché, Bibbia, per tutti gli appassionati di gossip. Da mesi ormai si vocifera di una grave crisi. Esplosa in concomitanza con il Pandoro Gate che avrebbe portato l'imprenditrice digitale e il rapper, genitori di due bambini, ad allontanarsi sempre di più. Secondo quanto riporta giovedì 22 febbraio il sito di Roberto D'Agostino, la favola dei Ferragni e Sarebbe giunta ai titoli di coda e Fedez avrebbe già fatto le valigie. Da Gospia, grida allo scoop. Game over fra Chiara Ferragni e Fedez si legge il rapper. Domenica scorsa, se n'è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell'anno scorso, la storia d'amore tra i due s'era incrinata ma l'influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente. E infine l'uscita di casa. Fedez si era recato in Florida ufficialmente per motivi di lavoro. Tornato a Milano, aveva trascorso San Valentino con la moglie. I due non avevano rinunciato alla consueta cena romantica a due consumata da cracco. Nel frattempo, però, ad allarmare i fan dei Ferragnez era stata una Instagram story in cui l'imprenditrice digitale, tra una frase motivazionale e l'altra, si era mostrata senza fede. Poi aveva rimosso il marito dalla foto profilo scegliendone una che la ritrae solo con Leone e Vittoria. Adesso la bomba di D'Agostia, che parla di rottura senza usare il condizionale e che, senza troppi giri di parole, addossa la colpa al cantante. Finiscono così i Ferragnez. Sick Transit Gloria Mundi recita lo scoop di Dago Chissà se metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale. Chiara Ferragni scoprirà che l'allontanamento dal cantante, alla fine, sia più benefico di quanto immagini. Non sono pochi gli osservatori convinti che parte dei problemi della influencer derivino dalla tendenza di Fedez ad ingaggiare battaglie a destra e a manca. Chiara Ferragni scoprirà che l'allontanamento dal cantante.